Ragazzi, ragazzi, comunque come cazzo si fa, capo, che troia, sempre ste cazzo di cazzate, raggiungiamo anche con l'Atalanta, cioè, c'è proprio degli errori grossi, clamorosi, sempre quelle cazzo di salvezza, ma io dico, una volta che avevamo fatto una partita buona, in difesa, attacco, avevamo segnato, proteggiamo questo, diventiamo sta cazzo di vantaggio, e invece stiamo 1-0 e che facciamo? Entra Miranchuk e ci segna il gol del pareggio, ma come cazzo si fa? Sempre ste cazzo di sbagli, porca puttana, poi vabbè che le sostituzioni potevano essere fatte di più, queste sì, ma sempre ste cazzo di errori, pure quando stiamo pareggiando, proviamo a gettare pinamonti nella mischia, proviamo ad inserire le punte, altre punte, mettiamola in golanna, proviamo a fare un po', il tutto per tutto, se no così, porca, c'è sempre ste cazzo di errori, qua, poi ho perso una marea di punti, e quando vinciamo un cazzo da dieci anni, stiamo avvelenati, stiamo, questo significa che quando andiamo a giocare la partita c'è sempre la concentrazione, porca puttana, sempre lo stesso discorso, ogni volta, sempre così, abbiamo fatto la partita a tutti i reparti, poi dovevamo rovinare tutto, poi ho perso la marea di punti, porca puttana, ma ora queste sì, dovevamo fare tutte le vittorie, poi cercate di recuperare un campionato, cercate di rimettere la cosa, la fare il patta per cercare di vincere, per avere punti in classifica, soprattutto per il morale e tutto quanto, ma se continuiamo così, in Giambio non si cercava a passare a sto cazzo di turno, cadroia, sempre le stesse cose, ma cercava a cacciare fuori i coglioni, coglioni, come cazzo si fa, questi risultati altalinanti, vinciamo, pareggio, persa, in Coppa non riusciamo a vincere, porca puttana, con Real Madrid, Real Madrid aveva perso, con lo Shakhtar alla prima, aveva pareggiato alla seconda, Real Madrid stava nettamente fuori forma, e ci è riuscito a battere ugualmente, porca puttana, porca, siamo questi cazzo d'errori, io dico, quando gioca con Real Madrid, cerchiamo almeno di giocarci la media, non subì gol, ma se poi facciamo degli errori individuali, come sempre, non si vince un cazzo, si vince la minchia, perché non solo le prestazioni, le prestazioni ce le sbattiamo i coglioni, se poi non vincevano la minchia, non vincevano le prestazioni, si ce ne sa, Conte, se deve avvelenare ulteriormente, se deve avvelenare, con la squadra ce l'abbiamo, ma aveva i risultati, porca puttana, se l'anno scorso avevamo vinto che la cazzo d'Europa League, vabbè, il campionato si sapeva se sei conto, ma al sì, non tanto vincevi l'Europa League, e ora era un po' meglio, così ora devi vincere la Coppa Italia, il campionato devi recuperare, la Champions pure, stavamo in una situazione proprio clamorosa, proprio da rimediare a 360 gradi, e basta una partita, una fallita, come cazzo si fa, e cerchiamo di vincere, che sicuramente ci vuole conto, se deve avvelenare, se deve avvelenare, perché così i risultati non si arriva un cazzo, si arriva pareggi, vittorie, le prestazioni si ci devono stare, ma alla fine contano questi cazzo di risultati, che poi un campionato, poi finisce il campionato, e diciamo se stavamo vinto col Parma, con quello, con quell'altro, con tutte queste cazzo, con le squadre, e poi stavamo con i rimorsi, gli impianti che potevamo vincere, quindi approfittiamo, porca puttana, stavamo recuperati, perché tutti quanti stanno a cosa, stanno a rallentare, la Juve pure, il Napoli, tutti quanti le big stavamo a rallentare, quindi, le squadre si stanno, c'è pure qualche squadra outsider, ma alla fine bisogna invertire la rotta, e cercare di vincere, il Champions deve passare questo cazzo di turno, che ci siamo rotti i coglioni, ci siamo a sti cazzo di gironi, già ne vinciamo un cazzo da dieci anni, da dieci anni ne vinciamo una minchia, e qua usciamo ogni volta i gironi, in Coppa Italia lasciamo sempre, e in campionato non vinciamo, proviamo a giocarci, abbiamo la squadra, cerchiamo a vincere questa cazzo di campionato, e Vitale, e quello, e quell'altro, dobbiamo vincere, Brozovic, non è in colana, la squadra bisogna vincere, porca puttana, comunque iscrivete al canale, l'Atalanta pure, veniva da, veniva da sconfitta contro Liverpool, e quindi stavamo, noi avevamo perso con Real, ma come cazzo si fa, sempre questi errori, dobbiamo cercare, c'è, bisogna assolutamente vincere, tutte le partite, bisogna vincere, cercare di, di convincere, bisogna trovare la difesa, il metri che c'avevamo l'anno scorso, che subiamo pochi gol, invece quest'anno, è una baracca di gol, una barahonda, ogni tiro ci segnano tutti, porca puttana, porca, al di là della difesa, quello e quell'altro, perché, la difesa è stata sempre, il punto, me fragico di Conte, e ora così, abbiamo 60 gol, ma come cazzo si fa, stanno cercando di vincere, queste partite, porca puttana, sempre questi cazzo, di errori, comunque scrivete, dobbiamo, solamente passare il turno, in Champions, e qua ne vinciamo, mai una minchia, siamo tutti coglioni, dai cazzo,